Potrebbe Bitcoin nei prossimi mesi innescare una bull run, una fase ascendente un po' attesa da tantissimi, alcuni però iniziano ad essere titubanti al riguardo e dicono no, non ce la farà. Ma esiste un modo di capire se questa cosa è possibile o meno? Oggi guardiamo i tre motivi principali per cui Bitcoin potrebbe nei prossimi mesi innescare una bull run. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video in una location un po' differente ma temporanea. Starò un po' qui perché sono sempre fuori ragazzi, oggi andiamo a guardare questi tre motivi in questo video. Faremo un po' face e grafico nel video di oggi ragazzi perché volevo farvi capire un po' quali sono i punti a favore di questa view di Bitcoin. Leggiamo tanto e spesso anche su diversi articoli, diversi autori che parlano di un'eventuale bull run. Bitcoin arriva a 100.000, 350.000, ho riletto l'altro giorno, insomma i soliti target un po' campatinari a volte. Ma esistono delle nozioni, esistono delle motivazioni, esistono delle cose che noi possiamo andare a vedere che un po' giustificano questa view, che siano però dei dati di natura come sempre, quantitativa, sapete ormai che il mio canale è un po' proiettato su quello che è un po' tangibile più che sulle idee e le opinioni di sorta ma più che altro su quello che effettivamente poi può essere toccato con mano, quindi dati di natura oggettiva e meno soggettiva. Quindi andiamo oggi a vedere questi dati, questi tre motivi che secondo me potrebbero indicarci che tra un po' Bitcoin potrebbe in effetti innescare quella famosa bull run. Allora andiamo al primo, qual è ragazzi? Allora ve lo mostro anche sul grafico, sul mio iPad. Allora il primo motivo principale di cui volevo parlarvi oggi, che potrebbe innescare un eventuale bull run di Bitcoin, è la vicinanza dei prezzi di Bitcoin alla famosissima ormai resistenza 12.100 in close settimanale, che ripeto da più di un mese. Perché parlo di questa vicinanza ragazzi? Perché vedete da un punto di vista di price siamo all'interno ancora, siamo ancora aggrappati a quel livello di resistenza. È vero che non riesce a romperla, però è anche vero che Bitcoin non è andato giù ed è vero che il tentativo di rompere quella resistenza ragazzi l'ha fatto già diverse volte. Vi faccio vedere anche il grafico del quickly per farvi capire questa cosa, perché sia nel 2019 ma anche nel 2017-18 ragazzi, quindi alla famosa bull run, la bolla di Bitcoin, era riuscito in ogni caso, vedete qui Bitcoin, a stare sempre vicino a questo livello e poi a rientrare. Qui eravamo in bolla speculativa e quindi non è riuscito magari a superare con sdrancio, ce l'ha fatto per due settimane e poi è rientrato, questo è un classico fake. Però poi l'ha ritestata nel 2019 e oggi siamo al terzo testing di questo livello di resistenza. Terzo testing ragazzi che configura una specie di triplo massimo su un grafico di natura. quickly, questo triplo massimo ragazzi è una figura sì sicuramente di resistenza, ma è anche un modo per dire resistenza ti voglio distruggere, perché più volte uno strumento finanziario testa un livello di resistenza, più volte quello stesso livello di resistenza perde il suo appeal e quindi perde la sua forza. Qui siamo al terzo testing ragazzi e anche sul lungo periodo. È vero che fino a tre possiamo starci, già il quarto, quindi il quadruplo massimo ragazzi è una figura di price action che non esiste o se esiste è proprio blanda, quindi in realtà il triplo massimo anche di suo ragazzi è una figura già comunque che un po' il dubbio mette sulla tenuta di quel livello di resistenza. Quindi da un punto di vista di lungo periodo Bitcoin sta testando il suo livello di resistenza importante, più importante, uno spartiacque tra quello che è successo finora e quello che potrebbe succedere da domani in poi sul mercato crypto, lo sta testando di nuovo in questi giorni e tenta ogni volta di starci sopra ragazzi, quindi non è un tentativo da bolla, è un tentativo da non bolla, non ci siamo arrivati in questo caso con una bolla, ci siamo arrivati con le proprie forze, quindi Bitcoin è arrivato lì con le proprie forze, ci riuscirà, questo è il primo motivo che mi può spingere a pensare a una prossima bull run. Secondo motivo relativo a questo discorso ragazzi, il fatto che Bitcoin faccia degli swing ribassisti, quindi delle fasi di ritracciamento negli ultimi periodi un po' smonte, un po' morte, senza forza, questo è positivo. Più volte sul canale ragazzi vi ho detto che quando uno strumento finanziario va giù in pratica, la forza si vede quando appunto gli swing ribassisti sono meno potenti, meno impulsivi, meno di impatto rispetto a quelli rialzisti, ed è quello che abbiamo visto anche in questo caso su Bitcoin, per esempio quando siamo partiti dai 9.500 e siamo arrivati ai 12.000, abbiamo avuto un impatto di uno swing al rialzo, i swing sono i movimenti ragazzi, quindi gli zig zag per intenderci, quelli rialzisti e ribassisti, quindi abbiamo avuto un movimento al rialzo molto pronunciato per quanto riguarda la fase rialzista, mentre questi movimenti di ribasso sono più piccoli, meno forti in pratica ragazzi, gli orsi in questo caso hanno meno forza rispetto ai tori e in più anche la fase di trend molto ripida che è iniziata su Bitcoin a marzo del 2020 con tutti gli strumenti finanziari, dopo la super remissione di liquidità della Federal Reserve, è in pratica continuata, anche il trend non si è nemmeno leggermente piegato, quindi continua sensibilmente a stare in piedi, questa view ancora rialzista. E questo è il secondo punto che mi spinge a pensare che potrebbe esserci nei prossimi giorni, insieme al superamento della famosa resistenza dei 12.100 in weekly, quindi in chiusura weekly, potrebbe esserci una bella bull run, quindi una bull run di Bitcoin. Terzo e ultimo punto per chiudere questo video ragazzi, la analisi ciclica, che è il mio pane quotidiano ragazzi, da un punto di vista di scadenza ciclica, siamo alla fine di un ciclo importante, quindi nelle prossime settimane inizierà un nuovo ciclo, e questo nuovo ciclo ragazzi quando inizia a forza e nella sua fase positiva, così possiamo dire, che potrebbe spingere il mercato al superamento della famosissima resistenza a 12.100. Vi faccio vedere ancora una volta a livello grafico, vedete qui in questa fase qui ragazzi, io attendo una fase di chiusura ciclica, a dire la verità nella giornata di ieri già ha fatto un bel ribassino, e quindi non ha fatto praticamente neanche la seconda parte che io mi aspettavo in pratica sul mercato, ve ne avevo parlato nell'ultimo video, non l'ha neanche fatta, quindi in pratica è andato diritto giù, perché questa parte qui è durata così, quindi probabilmente o chiuderà direttamente, se non l'ha già fatto, questa fase ciclica che sto aspettando, che è questa qui ragazzi in pratica, ma da qui in poi, come è già stato precedentemente, vi faccio vedere giusto per farvi capire i cicli, come li stiamo seguendo in questo momento, vedete, da qui in poi dovrebbe riuscire a fare una nuova fase, questa nuova fase è il terzo motivo che mi spinge a pensare, che da qui alle prossime settimane, ai prossimi mesi, potrebbe in effetti esserci una bull run di bitcoin, perché tutti questi motivi vanno a coniugarsi, vanno a diventare sinergici l'uno con l'altro, abbiamo una scadenza ciclica importante che può lanciare il mercato su un nuovo ciclo, vedete il precedente è salito da 9.500 a 12.000 ragazzi, quindi ha fatto quasi 3.000 dollari di rialzo, non è poco ragazzi, ok? E questo nuovo magari potrebbe avere un impatto anche rilevante come il precedente, perché no spingere bitcoin al di sopra, quindi di questo livello di 12.100, se la ciclica così impostata ha valore ed è ravvalidata dalla price action di mercato, diciamo così, potremmo assistere quindi nel prossimo settimana ad una ripartenza che porterebbe alla rottura della famosa resistenza a 12.100, e ad una fase di swing rialzista pronunciata molto di più rispetto a quelle che abbiamo visto, ai ribassi che abbiamo visto finora, e questo si compone questa grande ricetta ragazzi per fare questa grande torta e dà un'indicazione di natura oggettiva, quantitativa, che il mercato potrebbe in effetti innescare una spirale rialzista nelle prossime settimane. Bene ragazzi, allora ho concluso questo video, questi sono i miei tre punti secondo i quali diciamo la bullrun di bitcoin sarebbe possibile nelle prossime settimane, ma ci sono anche dei punti negativi, beh sì, potremmo anche vedere il bicchiere come si dice mezzo vuoto, magari lo faremo in un altro video. Per oggi è tutto ragazzi, io vi ringrazio, e come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un mi piace se vi piacciono questi video e soprattutto cosa ne pensate di queste tre motivazioni. Siete più della squadra bullrun o siete più della squadra attenzione, forse potrebbe crollare tutto dopo l'elezione del presidente americano a novembre. Fatemelo sapere nei commenti. Ciao a tutti, alla prossima.